Trai beneficio dalla comunione con Dio. Sei consapevole di avere sempre a disposizione un aiuto straordinario pronto ad aiutarti e guidarti nella tua nuova vita. Giovanni 14, 16, 17 è sempre al tuo fianco. Non sei mai da solo perché hai comunione con Dio. Lo Spirito santo vive in te, quindi puoi vivere una vita di lode, qualsiasi siano le tue circostanze, perché Lui è sempre al tuo fianco. Pregare in ogni tempo, Egli è presente e ti ascolta. Chiedere di essere riempito affinché tu sia sostenuto di fronte alle tentazioni e tu riesca a focalizzare i tuoi pensieri su Dio. Ricevere aiuto, guida e sapere cosa fare secondo la volontà di Dio per te. Ricevere i doni dello Spirito, vivere nella rivelazione e nel soprannaturale. Credo che non riusciremo mai a comprendere appieno i benefici della presenza dello Spirito Santo nella nostra vita. Dio ha scelto di non essere un Dio lontano, ma di avere sempre comunione con noi. Sei prezioso, Dio ti ama e abita in te. Beneficia della presenza di Dio in te. Grazie di esistere. Emanuele Go